Musica Torniamo in diretta per la nostra informazione del mattino, inizio della telegiornale. Dunque vi ricordo le notizie dell'ultima ora, uno schianto tra auto e moto che si è verificato la scorsa notte a Cerignola, sono quattro i morti purtroppo tra cui un bambino e poi questa maxi operazione che è in corso, che si sta per concludere a Foggia, l'operazione antimafia mai verificatasi nel passato. Mandiamo con ordine perché abbiamo già un collegamento in diretta, c'è la possibilità di andare subito a Taranto dove sta per arrivare, dovrebbe ormeggiare tra pochi minuti. Sì, direttore buongiorno, ti sento e saluto i nostri telespettatori. Siamo al di fuori della Varco S del porto di Taranto dove tra poco, come dicevi, attraccherà la nave Life Support di Emergersi con 171 naufraghi che dunque attraccano come previsto e nell'orario previsto nel porto di Taranto. Ricordiamo che i migranti sono stati soccorsi nella notte tra giovedì e venerdì in quattro distinti interventi in acque internazionali nell'area di ricerca e soccorso vicino a Malta. La prima imbarcazione proveniva dalla Libia, le altre tre dalla Tunisia. In totale le persone a bordo erano inizialmente 184, ma 13 naufraghi in condizione di maggiore fragilità sono sbarcati a Lampedusa poiché eccedevano la capacità di accoglienza della nave. Erano nuclei familiari, una donna incinta, un uomo con ridotta mobilità alla gambe e pensate c'erano anche quattro minori di un anno. I naufraghi provengono da Benin, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Egitto, Eritrea, Mairi, Senegal, Sierra Leone, Siria e Sudan. Bisogna ricordare come il team sanitario di Emergency si è preso cura naturalmente in questi due giorni delle persone che sono a bordo e che hanno riportato. Ovviamente ci mancherebbe delle usioni solari, in particolare oltre a dei traumi muscolari derivanti dalla posizione innaturale che queste persone hanno assunto a bordo dell'imbarcazione che vi ricordiamo ovviamente erano strapiene soprattutto quelle su cui hanno viaggiato. Inoltre tutte le persone sono molto provate dal punto di vista psicologico e bisogna appunto ricordare come in realtà si tratti di frequenti interventi soprattutto in quella zona di acque internazionali dove ovviamente in questo periodo purtroppo i ritrovamenti sono all'ordine del giorno. Noi tra pochi minuti appena effettuate le operazioni di dovuto controllo saremo sul posto per documentarvi anche l'arrivo che comunque so dovremmo avere già delle immagini. In ogni caso non so se hai domande da rivolgermi direttore. Sì sì, le immagini nel frattempo della nave di emergency stanno andando in onda, sono immagini che riguardano l'arrivo nel porto di Taranto di questa nave che è arrivata in perfetto orario rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia. C'è il supporto, e va detto Leo, importante anche della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Taranto che sta ascoltando per così dire la nave fino all'ormeggio. 171 migranti, non so se sappiamo qualcosina in più su queste persone che sono a bordo, per esempio se sono tutte in buona salute, ovviamente ancora forse troppo presto, forse tra qualche minuto potremo sapere anche notizie in più su questo fronte. Sì, su questo fronte possiamo dire comunque che nel momento in cui sono state ritrovate, ovviamente come dicevamo già prima, avevano delle problematiche legate soprattutto alle ossioni solari e alla situazione muscolare, all'intorpidimento. Pare comunque che nel corso di queste ore ovviamente lo staff di emergency abbia provveduto alle prime cure della caso, quindi non dovrebbero esserci situazioni emergenziali, ma ovviamente potremo fornirvi maggiori particolari nel corso dei prossimi collegamenti. Perfetto, grazie a Leo Spalluto, ovviamente ci collegheremo con te non appena la nave avrà ormeggiato, vedete è una nave di non grandi dimensioni, ma comunque sono 171 le persone a bordo, i migranti, i naufraghi, che sono stati soccorsi nel Mediterraneo e portati a Taranto, è l'ennesimo sbarco che si verifica in Puglia, che si conferma regione di grande, grandissima accoglienza. Ovviamente poi verranno trasferiti all'hotsport di Taranto per poi essere destinati ad altre strutture ricettive, come è successo nel passato. Andiamo avanti perché la cronaca oggi è davvero tanta e importante. Andiamo a vedere quello che è accaduto, che sta accadendo nel Foggiano, nelle ultime ore, perché c'è una maxi operazione antimafia, dalle prime ore della notte è in corso. Vedete le immagini, appena giunte in redazione, la più vasta operazione antimafia mai eseguita nella città di Foggia, che è stata dalle forze dell'ordine convenzionalmente denominata Game Over. Sono stati utilizzati 500 militari dell'arma dei carabinieri. Pensate che in queste ore, l'operazione è ancora in corso, stanno eseguendo misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. Vedete le immagini che si riferiscono alla notte appena trascorsa, con il blitz, il mega blitz dei carabinieri. Tutto questo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. nei confronti di svariate decine di soggetti di vertice affiliati e contigui alla violenta organizzazione criminale di matrice mafiosa, nota come società foggiana. È stato inferto un durissimo colpo alla malavita organizzata foggiana, di cui tanto si parla in queste settimane, in questi mesi, in questi anni. Vedete le immagini che sono state fornite dai carabinieri dell'arma, che hanno messo in campo una maxi operazione davvero imponente, che ha visto la partecipazione di uomini e mezzi in maniera molto massiccia. Non solo arresti, ma anche perquisizioni e sequesti. Avete visto il denaro sequestrato, denaro contanti. Sono in corso, oltre che in Capitanata, queste operazioni, vedete le immagini della notte, anche in altre province del territorio nazionale. I dettagli di questa maxi operazione, che vediamo nelle immagini, tuttora in atto, verranno forniti nel corso di una conferenza stampa fissata alle 11, presso la direzione distrettuale antimafia di Bari, alla presenza del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il dottor Giovanni Melillo. Ci saranno anche i magistrati della DDA di Bari e ovviamente i vertici dell'arma dei carabinieri di Foggia, che hanno eseguito questa operazione con il supporto di numerosi militari, 500 quelli utilizzati in tutto, è l'operazione antimafia più importante, più imponente, mai fatta in provincia di Foggia. Torneremo su questo argomento. E adesso vediamo un'altra notizia. Purtroppo dobbiamo dedicare molti minuti alla cronaca, in apertura del nostro Dario Giornale, perché è stata una notte, quella tra domenica e lunedì, drammatica, perché dobbiamo contare quattro morti e tre feriti in un incidente stradale. Un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte, vicino a Cerignola. Siamo sulla strada statale 544, di quattro morti e tre feriti tutti stranieri, il bilancio del gravissimo incidente che si è verificato nei pressi di Borgo Tressanti, siamo nel Cerignolano. A quanto si apprende, un'auto con a bordo una famiglia, composta da marito, moglie e quattro bambini, avrebbe investito un motociclo per poi uscire di strada e ribaltarsi. Ecco le immagini della vettura, che è un ammasso di lamiere contorte. Le vittime sono tre dei sei occupanti dell'auto, una donna polacca di 37 anni e le sue due figlie, due figlie in tenerissima età, di 8 e 10 anni. E poi è morto anche il motociclista, che aveva 29 anni. L'uomo alla guida dell'auto, un 42enne originario del Mali, e gli altri due bambini di 13 e 4 anni, sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono stati trasportati presso gli ospedali di Cerignola, di Foggia e di San Giovanni Rotondo. Sul posto, oltre agli operatori sanitari della 118, sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Cerignola e i vigili del fuoco. Quattro morti, tre feriti, bilancio da rabbrividire. E' davvero il momento di dire basta a questa mattanza, a questo sangue che viene versato purtroppo a fiumi sulle strade della Puglia. Vanno rese sicure le strade, tutte le strade vanno rese sicure. Altrimenti noi dell'informazione saremo sempre costretti a raccontarvi, a malincuore, con grande dispiacere, quello che accade come questa notizia. Quattro morti, di cui due bambine di 8 e 10 anni, a causa di un incidente stradale. E' pazzesco, è impensabile, nel 2023. Andiamo avanti, vediamo quello che sta succedendo anche per il caldo. La situazione diventa molto, molto problematica, soprattutto per i pronto soccorsi. Sono stati registrati malori in tutte le strutture sanitarie della Puglia e della Basilicata. Andiamo sul quotidiano con la collaborazione di Sebastiano Bufalo e vediamo questo titolo, nel servizio di Andrea Tafuro. In ospedale, con la febbre a 42, arriva il ghiaccio dalla pescheria. C'è stata un'impennata di richieste di soccorso per pazienti. Vediamo il sommario qui, proprio sopra il titolo. Con colpo di calore nel Salento, l'azienda di prodotti ittici, Demar, risponde alla richiesta d'aiuto del pronto soccorso. E questa è la notizia nella notizia. 10 kg di ghiaccio per raffreddare i malati. E' caos anche a Taranto e Bari. Parlano i responsabili della sanità. Vedete le ambulanze che sono rimaste in coda nei servizi di pronto soccorso della Puglia. Queste immagini vengono da Taranto. Sopra vediamo in queste foto Gregorio Colacicco, Maurizio Scardia, Anna, Elisa, buongiorno, e Stefano Rossi, che rispondono ai quesiti di questa situazione. A Taranto intasato il pronto soccorso, le ambulanze in coda per ore. Tanti codici non gravi. Negli ospedali a Bari, 9.000 accessi registrati in due settimane per una media di 600 al giorno. L'AFA non molla. Puglia verso i 45 gradi. Nuovo piano della regione per i fragili. Andiamo a vedere lo zoom a fondo pagina, sempre sul quotidiano. La platea a cui è rivolto il provvedimento straordinario agli anziani e ai bambini fino a 4 anni, proprio per evitare questi malori e che poi pronto soccorso vadano ad affollarsi. Poi ovviamente c'è il ricorso all'appello anche nei confronti di diabetici, ipertesi, non autosufficienti e a chi soffre di patologie renali o venose, a chi è sottoposto ad un trattamento farmacologico con uno specifico piano. Quindi le ASL invitano i cittadini, soprattutto gli anziani, a rimanere in casa, a non uscire, perché il caldo si avverte di più se si va all'esterno. Sembrerà un po' radosso, ma è così. Quindi questo è l'appello in sintesi lanciato da tutte le ASL della Puglia in questo momento difficile. Il caldo andrà avanti ancora fino a metà settimana, poi ci sarà una leggera flessione delle temperature, ma comunque bisogna fronteggiare questi giorni a cominciare da quello che è appena iniziato. E adesso ci spostiamo, restando in argomento a Roma, perché il caldo di questi giorni preoccupa anche il Ministro della Protezione Civile Musumeci. Dobbiamo fare i conti con il cambiamento climatico, purtroppo è così, è quanto dice il Ministro. Sentiamo il nostro corrispondente dalla Capitale, Francesco Manigrasso. La preoccupazione è soprattutto per gli anziani, per le persone che vivono da sole e le persone in sofferenza. È una competenza che aspetta i servizi sociali e i servizi sanitari, ma credo che debba allertare e responsabilizzare tutte le famiglie, perché le persone anziane non chiedono miracoli, ma in questo periodo hanno davvero bisogno di sentirsi in compagnia. Sono gli anziani a preoccupare, visto il caldo di questi giorni, che sta comportando una serie di difficoltà per le persone sole o che non sanno organizzarsi. Bisogna cambiare modello di vita, il clima è cambiato, dice il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Non possiamo restare inermi, dobbiamo adattarci a questo nuovo contesto. Non è una novità ormai la tropicalizzazione dell'Italia, dovrebbe indurci ad adottare i necessari accorgimenti. Ogni regione ha predisposto, e già da tempo, un piano per gli anziani, per la popolazione della terza età. È un servizio che integra quello sociale, socioassistenziale e quello sanitario. Non è un tema di protezione civile, per fortuna devo dire, almeno fino a questo momento. Lunghi periodi di siccità da una parte e brevissimi periodi di pioggia abbondante dall'altra. Ci hanno spiegato che dobbiamo fare i conti con un cambiamento climatico che c'è da oltre dieci anni e non deve più meravigliarci, dice il Ministro. Ma il caldo torrido sta bruciando anche la frutta e la verdura nei campi, provocando la perdita del raccolto che in alcune aziende arriva al 90%. Dai peperoni e meloni, dalle anguri all'uva, fino ai pomodori e alle melanzane. L'allarme della Col di Retti preoccupa. Le conseguenze non sono solo sulle persone, ma anche sugli allevamenti e coltivazioni, soprattutto dopo gli ultimi fenomeni che hanno colpito il bel paese, provocando danni di milioni di euro nelle campagne italiane. E quindi danni all'agricoltura, non solo ovviamente le problematiche per la salute umana, ma anche per l'agricoltura. Quindi l'economia, a proposito di agricoltura, puntare su meccanizzazione del settore e approvvigionamento dell'acqua per venire incontro alle sfide future del settore agricolo. Lo afferma il sottosegretario Luigi Deramo, che sul bando alla carne sintetica ha ribadito giusto tutelare i nostri prodotti. Il sottosegretario lo abbiamo avvicinato a Bari. Sentiamo Domenico Brandonisio. Sfide future da vincere ripartendo dalla qualità del Made in Italy e garantendo sostenibilità ed innovazione al mondo dell'agricoltura. Idee chiare per il sottosegretario all'agricoltura Luigi Deramo, presente a Rutigliano per i 50 anni di Fungo Puglia. Sicuramente noi dobbiamo puntare sempre di più alla innovazione tecnologica, alla meccanizzazione, all'agricoltura di precisione. E questo ci consentirà di migliorare in termini di qualità e di quantità i nostri prodotti agroalimentari e sicuramente aprirebbe uno spaccato importante che andrebbe a potenziare anche la nostra forza economica. Ha fatto molto discutere la messa al bando della carne sintetica. Una scelta volta a tutelare la produzione italiana, Italia, che è il primo paese al mondo ad esprimersi in maniera così forte. Nessuno può copiarla, dice sempre il sottosegretario. La sovranità alimentare va preservata. Assolutamente sì, siamo il primo paese al mondo che ha assunto per legge la decisione di non poter commercializzare e produrre carne sintetica, pesce sintetico, latte sintetico, insomma prodotti sintetici in laboratorio innanzitutto perché non si conoscono ancora oggi gli effetti sulla salute delle persone. Ma questo sostanzialmente andrebbe anche a danneggiare le nostre filiere e la nostra economia. Infine l'approvvigionamento dell'acqua. Una grande sfida, si sottolinea, da vincere anche come forma di sostegno alle aziende per affrontare al meglio i cambiamenti climatici. Adesso ci occupiamo del TFM che sta facendo tanto discutere, non solo a livello politico all'interno della Massima Assisi regionale ma anche tra i cittadini si alimenta il dibattito, anche tra le associazioni. 40 di esse sono scese in campo per dire no a questo trattamento di fine mandato che sarebbe una sorta di buona uscita per chi fa parte del Consiglio regionale. E anche l'ex governatore, Nichi Vendola, è contro il ritorno dell'assegno di fine mandato per i consiglieri regionali pugliesi. L'ex presidente della Regione Puglia aderisce all'appello della CGL. Nelle prossime ore potrebbe prendere forma la mobilitazione e domani ci sarà la conta in Consiglio regionale che ovviamente seguiremo. Intanto sentiamo Vendola. Non è un colpo di scena ma sposta ugualmente l'asticella un po' più in alto. Anche Nichi Vendola si schiera contro il ritorno del trattamento di fine mandato per i consiglieri di Via Gentile. Nessun ingresso in campo roboante. L'ex governatore aderisce all'appello formalizzato giorni fa dalla CGL e che raccoglie ora più di 60 tra sindacati e associazioni da Confesercenti a Lega Coppa e Giusta Causa comprese Confindustria e Sinistra Italiana eppure l'ex presidente della Regione appunto. Il colpo di spugna sull'assegno in questione infatti era arrivato proprio durante la sua seconda legislatura da capo della Giunta allora ancora in via Capruzzi e con Mario Monti a Palazzo Chigi. 35 mila euro circa, 4,3 milioni di euro in totale per le coperture e la speranza spiega che il Consiglio ora possa accogliere la sollecitazione ad un ripensamento tanto più dal momento che addestare perplessità, a citarlo, è la stessa retroattività a valere dal 2013 un anno dopo l'abolizione insomma. La politica al dovere dell'ascolto e le sigle rappresentano il tessuto collettivo della nostra democrazia grave ignorarne la voce. Nulla più di un appello ma è pur sempre quello di un ex presidente ancora poche ore e poi se non ci dovessero essere risposte ufficiali il fronte del no valuterà le forme di mobilitazione da mettere in atto anche all'esterno del Consiglio a quel punto difficile dire se si andrà allo strappo oppure si opterà per un rinvio last minute l'ultima parola aspetta all'aula qualunque sia. E dunque vedete il quotidiano fine mandato no di vendola il rinvio come ultima mediazione dall'ex governatore l'invito al Consiglio perché ponderi bene la decisione di reintrodurre la liquidazione non si possono ignorare decine di associazioni. Poi la CGL suona la carica per dire no alla legge e intanto la neo eletta segretaria regionale della CGL Bucci afferma disamore dei cittadini per questa politica sono contestate in particolare la retroattività della norma proposta dai consiglieri. Intanto oggi a Bari una conferenza stampa delle associazioni che sono contrarie all'iniziativa e cioè al ritorno dell'assegno di fine mandato. Andiamo avanti adesso perché abbiamo un'altra notizia di aggiornamento su uno dei fatti che abbiamo messo in apertura nel nostro Tg di questo lunedì 24 luglio e cioè l'arrivo dei migranti in Puglia sulle coste Ioni che a Taranto ha appena ormeggiato, sta ormeggiando, sta praticamente effettuando gli ormeggi in questo momento. Vediamo le immagini che ci giungono in diretta dal porto di Taranto dove la nave di Emergency, vedete si sta avvicinando alla banchina del porto Ionico 171 i migranti che sono sulla nave e che saranno sbarcati tra pochi minuti. Ovviamente noi abbiamo sul posto, come avete sentito, un nostro collega c'è Leo Spalluto insieme con Francesco Lozito che tra poco chiameremo in causa per capire meglio se ci sono notizie sulle condizioni dei migranti che stanno sbarcando in questi minuti a Taranto con questa nave che vedete la Life Support. C'è tutta un'organizzazione che è stata messa in piedi dalla prefettura di Taranto in collaborazione con la questura, il prefetto Demetrio Martino, il questore Massimo Gambino hanno messo in moto la macchina organizzativa di accoglienza dei migranti che saranno accolti, rifocillati, verificate le loro condizioni di salute e poi trasferiti momentaneamente all'hot spot di Taranto che si trova proprio nei pressi del porto mercantile Ionico. Sono le 7.20. Andiamo avanti per parlare di porti, restiamo quindi in qualche modo anche in argomento quindi un documentario per raccontare la visione dei porti pugliesi, si chiama Aprodi e ha fatto da filo conduttore del galà organizzato da Assetta all'Orizzonte le sfide dei piani regolatori degli scali ma anche l'apertura alle città. Sentiamo. C'è una bella differenza tra le città di mare e le città sul mare le città di mare hanno i loro destini come i mari stessi su cui sono elevate Si chiama Aprodi, idea di Niccolò Carnimeo, regie di Lorenzo Scaraggi e del racconto di una lunga navigazione a vela tra Ionio e Adriatico ogni tappa a un incontro lo scrittore Alessandro Vanoli a Monopoli l'archeologa Rita Oriema a Ignazia Enrica Siamonetti a Giovinazzo Roberto Soldatini a Trami Lucio Caracciolo a Bari Bjorn Larson per Brindisi vuol dire anche chiedersi quali siano le sfide imminenti della portualità regionale a partire dai piani regolatori e dalle vocazioni. Noi abbiamo il piano dei porti abbiamo facendo il piano regolatore portuale di Manfredone e Brindisi poi attaccheremo con Bari perché è una necessità e poi gli altri porti minori Termoli c'era già Monopoli e Barletta dobbiamo creare un ordinato sviluppo della portualità e soprattutto rendere il porto attrattivo anche per la città Il punto a Giovinazzo con autorità e stakeholders della Blue Economy, l'organizzazione di asset e parola d'ordine come sostenibilità, controllo dell'erosione e apertura alle città Noi abbiamo la ZES portuale e credo che il ministro Fitto vorrà conservare la specificità perché è diversa dal resto, perché c'è una discrezionalità noi possiamo concedere ai privati di investire solo dove l'investimento del privato è più prolifero è più profittuo Vediamo questo titolo, l'incendio a Rodi, un inferno di fuoco in Grecia famiglia pugliese evacuata, madre, padre, figlia di 8 anni in fuga dalle fiamme per 70 km, ora sono al sicuro sono stati trasferiti in una scuola in attesa di concludere le procedure per il rientro è davvero una situazione molto molto difficile la famiglia della BAT di Trani, il sindaco di Trani, Bottaro, ha detto siamo in contatto costante erano sull'isola per vivere qualche giorno di relax poi l'emergenza e la fuga vediamo le immagini di quello che sta succedendo a Rodi e di questa famiglia di Trani della BAT, guardate le fiamme che hanno incendiato Rodi la gente che è fuggita il panico ovviamente come potete immaginare la famiglia pugliese è composta da padre e madre e una bimba di 8 anni si trovavano in vacanza Rodi l'isola grega devastata da questo violento incendio secondo quanto fa sapere il comune di Trani la famiglia è stata evacuata a bordo di un bus raggiunto Rodi, città dove è al momento ospitata in una scuola gestita dalla protezione civile madre, padre e figlia che stanno tutti bene erano in vacanza al sud dell'isola dove si sono sviluppati gli incendi che stanno distruggendo l'isola di Rodi che purtroppo continua a far registrare danni perché le fiamme sono ancora alte e l'incendio è fuori controllo è quanto riportano gli stessi media greci le autorità hanno evacuato 30.000 persone di cui 2.000 hanno dovuto essere trasportate a largo delle spiagge via nave l'incendio ha bruciato una vasta area di foresta distruggendo anche lussuosi alberghi e molte abitazioni prosegue il lavoro dei vigili del fuoco impegnati in prima linea contro le alte temperature roventi e forti venti un portavoce della polizia greca ha dichiarato che a Rodi i soccorritori hanno effettuato la più grande evacuazione mai avvenuta in Grecia però diciamo che per quel che riguarda la famiglia di Trani la famiglia pugliese qui vediamo il sindaco Bottaro appunto che ha affermato che stanno bene sono in costante contatto e tutta la notte purtroppo si sono registrati ancora incendi e la gente ha continuato a fuggire un vero e proprio disastro è quanto ha testimoniato Massimo Alberti giornalista italiano in vacanza a Rodi il quale raggiunge abbiamo passato la notte a fuggire dal fuoco e ci siamo spostati cercando di anticipare gli ordini di evacuazione siamo andati verso sud ovest per sfuggire al fuoco e ci hanno accolto in abitazioni e adesso ci troviamo in un hotel vicino all'aeroporto torniamo se possibile al rivo dei migranti tra poco avremo la possibilità non so se riusciamo a farla prima della pubblicità questa diretta mi dice il nostro Sebastiano Buffalo di attendere di attendere ancora qualche minuto perfetto e allora andiamo avanti e parliamo di cronaca dobbiamo andare a Brindisi per tornare al maxi blitz di quasi una settimana fa da parte dei carabinieri di San Vito dei Normanni e caccia ai due principali personaggi dell'inchiesta antimafia condotta tra San Vito dei Normanni e il resto della provincia di Brindisi i due che sono padre e figlio che sono sfuggiti alla cattura nel blitz di martedì scorso ce ne parla Gianmarco Di Napoli che sta seguendo molto da vicino questa vicenda potrebbero essere rimasti in zona nascosti in quella rete di case di campagna della provincia di Brindisi in cui si muovono benissimo fatta di stradine interpoderali percorsi sterrati tra vigneti carciofeti e alberi d'ulivo una cartografia che manda in tilt persino e navigatori satellitari ma che Gianluca e Cosimo Lamedola padre e figlio conoscono alla perfezione perché era in questo universo parallelo lontano dai lampioni a led e dalle telecamere dei centri urbani arroccati nella masseria di Contrada Mascava ereditata dal capostipite Carlo Cantanna che avevano costruito il loro business milionario e una caccia serrata quella condotta dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni ai due personaggi chiave dell'inchiesta che martedì scorso portato all'esecuzione di 22 ordinanze di custodia cautelare di cui 21 in carcere Gianluca Lamedola 34 anni considerato il capo dell'organizzazione e il padre Cosimo che ha solo 17 anni in più di lui non si sono fatti trovare probabilmente avevano già pronto un piano per la fuga avendo ormai percepito di essere indagati e forse era già pronto anche un rifugio per l'eventuale latitanza Cosimo del resto non è nuovo alla clandestinità 30 anni fa quando era poco più che ventenne riuscì a sfuggire al blitz contro i componenti della banda del racket delle estorsioni che terrorizzava i commercianti di San Vito e dei Normanni fu catturato dai carabinieri quando ancora in paese non c'era la nuova caserma della compagnia ma solo una piccola stazione dopo oltre due mesi di latitanza in una masseria di contrada caracciolo nelle campagne di Mesagne non è escluso che il nascondiglio scelto da Lamedola sia anche in questo caso in una zona rurale magari anche nel Fasanese dove l'organizzazione poteva contare su una rete importante di affiliati che operavano in anonimi B&B nascosti nel verde o villette di periferia i carabinieri stanno monitorando con attenzione non solo i luoghi ma anche le persone Gianluca e Cosimo Lamedola dovranno fare affidamento necessariamente su una rete di fiancheggiatori che peraltro rischiano grosso il reato in questo caso per chiunque li protegga è di concorso esterno in associazione mafiosa intanto vedete questo titolo l'estate rovente pioggia grandine e feriti al nord quindi se al sud si boccheggia per le temperature che superano costantemente i 40 gradi la grandine la fa da padrona al nord oggi e domani è ancora caldo record ma da mercoledì è prevista una tregua Sorrento arrestato un piromade nudista e a proposito di clima di temperature e di previsioni del tempo ecco le previsioni del tempo di Antenna Sud dunque ha ormeggiato la nave di emergency al porto di Taranto 171 i migranti che stanno sbarcando in questi minuti la vediamo sullo sfondo alle spalle del nostro inviato al porto di Taranto che ringrazio per tutto il processo che sta offrendo insieme con Francesco Lozzito allora un aggiornamento Leo a te la linea in diretta da Taranto allora direttore come potete vedere abbiamo la life support alle nostre spalle con le insegne inconfondibili di emergency sia sulla prua della nave ma anche attorno ai cabinati la cosa che potete notare anche dalle nostre immagini è che proprio in questo momento sta avvenendo il posizionamento della passerella che poi consentirà ovviamente ai 171 naufraghi di poter toccare terra vediamo che al momento non sono ancora state montate però pienamente tutte le strutture che consentiranno il controllo dei singoli migranti quindi vediamo che siamo ancora nelle fasi molto iniziali e riteniamo che ci vorrà almeno un'ora un'ora e trenta per completare questo processo di sbarco dei 171 migranti che come abbiamo ricordato provengono sostanzialmente da una grandissima quantità di paesi africani che abbiamo anche elencato prima per quanto riguarda le condizioni sanitarie di cui avevamo parlato anche nel precedente collegamento diciamo che da fonti ben accreditate sembra che comunque qualcuno possa e debba essere ricoverato nell'ospedale di Taranto poi successivamente per controlli che sono dovuti ovviamente dopo tanti giorni vissuti in mare in condizioni veramente al limite della ovviamente della praticabilità umana ricordiamo lo abbiamo già detto nel collegamento precedente che ci sono stati dei traumi muscolari derivati da intorpidimento per le posizioni innaturali assunte chiaramente sulle prime barche quelle che poi hanno causato il soccorso nelle acque maltesi e poi ovviamente con la calura fortissima di questi giorni sono numerosi a quanto pare gli episodi di usioni solari ovviamente non gravi ma comunque da tenere sotto controllo in ogni caso noi vi aggiorneremo in tempo reale anche nel corso della nostra programmazione di Antena Sud e ovviamente dei nostri telegiornali non so se domande da studio direttore ecco volevo sottolineare soltanto l'imponente organizzazione messa in piedi dalla prefettura di Taranto dal prefetto Demetrio Martino e dal questore Massimo Gambino perché poi c'è anche la Croce Rossa la protezione civile la Polizia di Stato tutte le forze dell'ordine Carabinieri Guardia di Finanza che si sono dati tutti in raccordo da fare per accogliere questi 171 migranti che non sono pochi i quali verranno trasferiti lo diciamo a beneficio di coloro che si ponesero soltanto ora all'ascolto all'hot spot di Taranto e poi da lì smistati nelle varie strutture di accoglienza del sud Italia questo per far comprendere ai nostri telespettatori come avviene l'organizzazione perché magari spesso si dice sono arrivati punto e basta e poi non si sa questi migranti che fine facciano è questa la situazione mentre vedete le immagini di Francesco Lozito che vanno a indugiare sul primo piano la prua vediamo della nave di emergency e vedete sullo sfondo anche tutta la macchina organizzativa messa in piedi dalle istituzioni locali sai se ci sono dei minori Leo hai saputo se ci sono dei bambini allora assolutamente sì assolutamente sì ci sono dei minori e pare molti anche di piccola età naturalmente ne sapremo di più tra poco possiamo dire che però quelli inferiori a un anno che erano quattro sono stati fatti sbarcare a Lampedusa l'altro ieri perché ovviamente era una condizione di necessità assoluta di assoluta urgenza e quindi hanno fatto parte di quel numero ricordiamo infatti che all'inizio il numero era di 184 siamo scesi a 171 proprio per questo sbarco iniziale a Lampedusa delle condizioni più urgenti perfetto molto bene molto bene grazie a Leo Spalluto per il preziosissimo lavoro svolto da questa mattina alle 6 lì al porto di Taranto è arrivata diciamo puntuale la nave era previsto alle 7 l'arrivo l'ormeggio uno slittamento di poco meno di mezz'ora abbiamo visto proprio il momento in cui la nave è arrivata alla banchina del porto di Taranto grazie Leo poi ovviamente se sarà necessario ci risentiremo tra poco un ringraziamento anche a Francesco Lozzito grazie che sta effettuando le riprese dal punto di vista tecnico grazie andiamo avanti adesso vedete a proposito di migranti andiamo sulla gazzetta del mezzogiorno siglato il patto di Roma insieme contro i trafficanti la vera e propria crisi umanitaria come è stata definita la premier Meloni ha detto un fondo speciale per lo sviluppo dei paesi dai quali fuggono i migranti poi la strategia internazionale la conferenza si è conclusa con un'intesa tra i leader dei paesi del Mediterraneo e del Golfo con l'Italia e i vertici dell'Unione Europea ovviamente come sempre è intervenuto anche Papa Francesco su questa crisi umanitaria nel Mediterraneo basta morte e disumanità è quanto afferma il Santo Padre che fa un monito ai governanti europei e africani leggiamo solo l'attacco al pezzo di Fausto Gasparoni desidero attirare l'attenzione sul dramma che continua a consumarsi per i migranti nella parte settentrionale dell'Africa migliaia di essi tra indigibili sofferenze da settimane sono intrappolati e abbandonati in aree desertiche questo è quanto afferma il Papa andiamo avanti con la cronaca ci spostiamo a Brindisi sarà la polizia locale di San Pietro Vernotico a stabilire eventuali responsabilità nella drammatico incidente stradale in cui ha perso la vita un noto commerciante di 55 anni ci spiega tutto è meglio nel servizio Gianmarco di Napoli c'è grande sconcerto San Pietro Vernotico per la morte di Elio Villani il commerciante di 55 anni che ha perso la vita sabato mattina in un incidente avvenuto alla periferia del paese sulla provinciale per Squinsano l'uomo già proprietario di un negozio di alimentari era in sella la sua Harry Davidson che si è scontrata con una Citroen C3 condotta da un 87enne di Squinsano secondo una prima ricostruzione uno dei due mezzi stava entrando in una stazione di servizio quando è avvenuto l'impatto all'arrivo dei mezzi di soccorso per Villani non c'era nulla da fare l'anziano conducente della vettura è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Perrino ma non ha riportato ferite preoccupanti per ricostruire la dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della polizia locale di San Pietro Vernotico e adesso apriamo una parentesi dedicata agli eventi perché c'è stato il Palio di Taranto la seconda manche di questo 2023 la prima si era svolta l'8 maggio è stata una manifestazione senz'altro condizionata dal grande caldo anche perché si tratta di un evento sportivo in cui lo sforzo fisico ha la precedenza su tutto e vince il rione Tre Carrare Battisti che si aggiudica sulla distanza il Palio di Taranto 2023 aveva vinto la prima manche ma la regata di ieri Pomeriggio è stata vinta da Di Giacomo e la Gioia che hanno fatto un primo posto al termine di una regata davvero molto emozionante soprattutto nella parte finale abbiamo sentito i vincitori assoluti del Palio ovvero Marco Sandi e Antonio Vorace sentite complimenti davvero vi siete messi in testa e lì siete rimasti dall'inizio fino alla fine avete respinto tre attacchi poderosi da parte di coloro che poi hanno vinto ma soltanto perché voi non c'eravate la prima manche ecco c'è rammarico per questo no è una competizione sportiva quindi bravi migliori chiaramente in questo caso Marco Sandi e Antonio Vorace hanno vinto il Palio di quest'anno magari l'anno prossimo potremmo ripetere una competizione completa delle due manche abbiamo visto una grande sincronizzazione tra di voi ma da quanti anni vogate insieme? noi come equipaggio siamo di vecchia data bene abbiamo avuto l'ultima esperienza nel 2013 poi abbiamo sospeso anche perché lui fa parte di un'altra società però è bastato poco allenamento per dare il risveglio del passato io penso che voi la regata l'abbiate vinta sulla prima virata quella del Molo Sant'Eligio quando hanno tentato di spassarvi da destra vicino agli scogli beh hanno tentato più volte di cercare di sorpassare però chiaramente la resistenza è quella che poi dà la vittoria realmente di tutta la gara comunque salite sul podio alzerete al cielo il trofeo di stasera per questa vittoria beh la mance sì alzeremo e saremo molto contetti ovviamente la dedicheremo anche alle persone che non ci sono più come mia mamma e mio papà una dedica anche da parte tua? questa competizione come tutti gli sport va ad esempio di vita a tutti quanti è un esempio di vita un banco di prova di vita per tutti quanti nel confronto nell'amicizia nel rispetto reciproco delle regole e poi ovviamente torneremo su questo argomento durante i nostri approfondimenti anche perché Tenna Sud per il quarto anno consecutivo ha garantito la diretta della manifestazione che ha fatto registrare buoni ascolti intanto parliamo di sanità a Mottola c'è stato un importante incontro con il direttore generale della ASL di Taranto Gregorio Colacicco per discutere del futuro del cosiddetto PTA di Mottola ovvero il presidio territoriale assistenziale della struttura sanitaria dell'ospedale di Mottola vediamo il servizio di Laura Milano Si è tenuta all'interno del presidio territoriale assistenziale di Mottola una riunione richiesta dal consigliere regionale Antonio Paolo Scalera con il direttore generale della ASL di Taranto Gregorio Colacicco presenti anche l'ingegner Tommaso Carrera responsabile per la ASL dell'attuazione del PNRR ed il consigliere regionale Renato Perrini L'incontro si è svolto a distanza di circa tre mesi dal sopralluogo della struttura sanitaria effettuato dallo stesso Scalera che denunciava lo stato di abbandono in cui versavano i diversi ambienti L'obiettivo è quello di rendere operativo il presidio assistenziale di Mottola nell'interesse dell'intero territorio L'incontro è stato anche l'occasione per evidenziare la necessità di un intervento programmato di riqualificazione dell'ex ospedale Umberto I di Mottola presentato relativo elaborato grafico da cui è emersa la realizzazione di una casa di comunità recupero dell'auditorium e riqualificazione del parcheggio esterno con pensiline e pannelli fotovoltaici e colonine di rifornimento per auto elettriche il direttore Gregorio Colacicco ha evidenziato che nel progetto della competente ASL si è già ipotizzata la creazione di una struttura RSA per persone con patologie non acute che però necessitano di assistenza costante presenza infermieristica nell'arco delle 24 ore inoltre si è paventata la concreta possibilità di potenziamento del già esistente hospice pubblico per le cure palliative ed il fine vita parliamo dei giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto e l'organizzazione diventa sempre più complessa anche per le polemiche che si stanno susseguendo tra i vari fronti politici interessati a questo evento andiamo sul nostro sito antennasud.com per leggere quello che ha affermato uno dei diretti interessati ovvero vedete l'onorevole Dario Iaglia di Fratelli d'Italia il caldo confonde regione e comune questo è il titolo leggiamo non posso che attribuire l'ondata all'ondata di caldo eccessivo di questi giorni che mi fa pensare ad un colpo di sole subito da chi la redatta e il riferimento di Iaglia è ai contenuti della nota diffusa qualche ora fa relativa alla trasmissione da parte di asset di progetti aggiornati al nuovo codice appalti al Comune di Taranto e al Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026 e quanto afferma Dario Iaglia componente Commissione Ambiente coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia andiamo avanti il suggestivo carteggio estivo tra gli enti sunnominati relativo ai progetti per gli impianti che ospiteranno la manifestazione sportiva esclude tra i destinatari l'unico che è titolato a riceverli e a valutarli ossia il commissario straordinario ai giochi nominato dal governo continua Dario Iaglia l'eccessiva calura estiva forse continua a confondere la regione il Comune di Taranto il Comitato Organizzatore il Comitato Organizzatore Asset per la precisione ha fornito dei progetti che sono stati consegnati al Comune di Taranto al Comitato Organizzatore ma non al commissario in maniera ufficiale che pure l'aveva chiesti in maniera reiterata e intanto oggi a Roma c'è un vertice che si terrà alle 14 ci saranno i ministri Fitto e Abodi per quanto riguarda il governo poi lo schieramento si completerà con la presenza di Massimo Ferrarese che è il commissario governativo nominato per i giochi del Mediterraneo e poi ci saranno i rappresentanti della regione con il governatore Emiliano il sindaco di Taranto Melucci quindi alle 14 probabilmente ce lo auguriamo tutti si dovrà mettere fine a questa querella politica puntare alle strutture e capire quelle che si possono fare quelle che si possono ristrutturare senza perdere ulteriore tempo perché adesso questo continuo botta e risposta dall'una e dall'altra parte è diventato abbastanza noioso diciamo così bisogna adesso capire bene far capire alla gente quello che si può fare per questi giochi del Mediterraneo Ferrarese si è detto fiducioso possiamo fare tutto ma lo dobbiamo fare con raziocinio Melucci insiste sulla costruzione ex nuovo dello stadio Erasmo Iacovone per esempio anche se non si sa se i tempi necessari per abbattere ricostruire siano adesso sufficienti perché tutto deve essere pronto nell'aprile del 2026 questo significa meno di tre anni fa di tre anni a seguire ma intanto vediamo questo servizio di Leo Spalluto che preannuncia il vertice che si terrà oggi a Roma alle 14 l'ora X sembra arrivata per i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 la giornata della svolta segnata sul calendario è quella di lunedì 24 luglio è stato convocato a Roma alle 14 la vertice che dovrà risolvere tutti i problemi in campo e chiarire gli intendimenti del governo e del commissario sul masterplan dei giochi e sulla distribuzione dei fondi l'incontro richiesto anche dal comitato organizzatore dei giochi vedrà la partecipazione del ministro per gli affari europei coesione PNRR Raffaele Fitto del ministro dello sport Andrea Abodi del commissario dei giochi 2026 Massimo Ferrarese del presidente del CONI Giovanni Malagò del presidente della regione Puglia Michele Emiliano e del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci i ministri Fitto e Abodi furono i primi ad adombrare a marzo con una lettera possibili ritardi nell'organizzazione della manifestazione nel corso della riunione si parlerà dei 150 milioni previsti per i giochi e della situazione dei principali impianti da realizzare a Taranto stadio Iacovone il commissario pensa ad un restyling per mancanza dei tempi necessari il comune vorrebbe abbattimento e ricostruzione dello stadio del nuoto Ferrarese sarebbe perplesso riguardo al luogo scelto e della centro per gli sport nautici che il commissario potrebbe spostare dalla banchina torpediniere alla cala dei nocchieri è tempo di risposte il sindaco Melucci ha ipotizzato la rinuncia ai giochi il commissario Ferrarese ribadito non si spostano da Taranto tutte le risposte stanno per arrivare seguiremo le 14 questo evento vi terremo informati in tempo reale sia attraverso i nostri telegiornali vi ricordo che quello interregionale va in onda alle 13.15 che è sul nostro sito www.antenasud.com vorrei andare un attimo sulla prima della cronaca di Brindisi del quotidiano di Brindisi per parlare di questa vicenda che ha un po' messo in difficoltà anzi ha parecchio messo in difficoltà i cittadini della città adriatica Caldo e Blackout hanno dovuto chiudere i battenti al porticciolo turistico 200 posti prenotati e alla Octagonà dove c'era una festa con DJ e i tavoli tutti riservati beh è estate quindi è importante anche che la gente possa trascorrere magari le ferie in maniera rilassante attraverso queste iniziative ma niente non è stato possibile perché andate via la luce quindi il massimo della sfortuna anche se ovviamente ci sono delle polemiche come è facile immaginare ristoranti e bed and breakfast clienti a casa danni per migliaia di euro vediamo leggiamo il quotidiano l'Enel ha creato una task force per l'emergenza blackout in città che ieri mattina si è concentrata su via Materdomini a Brindisi sotto il ristorante del porticciolo turistico la mancanza di energia elettrica ha comportato la rinuncia alla cena di 200 clienti e la perdita dei prodotti freschi e quindi decongelati situazione davvero molto difficile poi disagi anche a Mattonelle con le strutture ricettive senza energia elettrica l'Enel ha messo in campo una task force code sulla strada del mare questo è quanto riporta il quotidiano adesso andiamo in provincia di Bari taglia il traguardo dei 50 anni un'attività storica appunto che ha mezzo secolo Fungo Puglia azienda di Rutigliano appunto provincia di Bari nata nel 1973 e sbocciata grazie all'impegno della famiglia Altieri grande festa per la ricorrenza c'era per Altenna Sud Domenico Brandonisio 50 anni di consolidata attività fatti allo stesso tempo di passione e amore per il territorio di tradizioni tramandate di pazienza e dedizione e con questi valori che a Rutigliano Fungo Puglia festeggia questa importante ricorrenza un valore aggiunto per la terra di Bari e non solo a partire dal 1973 è proprio la cura dei funghi come suggerisce il nome stesso ad essere protagonista attraverso il seguito di ogni fase e processo di coltivazione crescita che mira a portare un prodotto locale genuino sulle tavole dei pugliesi per me questa azienda è la sorella maggiore è nata due anni prima di me sono cresciuto qui e qui ti ho preso i valori un'azienda che coltiva con passione da 50 anni i funghi oggi li vende in tutta Italia anche gran parte in Europa e pensa sempre di più a un mercato sostenibile noi siamo stati primi a fare il substrato a portarlo in produzione e poi anche a trasformarlo perché noi siamo stati anche i primi a fare i funghi sterilizzati i funghi calamoglia insomma abbiamo dovuto far conoscere i funghi in tutte le loro maniere il segreto del successo non è legato solo all'impegno ma anche al rispetto dell'ambiente e senza alterare le caratteristiche nutrizionali oltre mille i partecipanti alla grande festa e qual è il segreto del vostro successo la passione la continuità l'impegno non guardarsi mai dietro sempre avanti la festeggiamo e creiamo le condizioni perché ci siano sempre maggiori aziende come questa diamo uno sguardo alla prima pagina di Repubblica Spagna flop sovranista migranti Meloni lancia il processo di Roma proseguiamo dunque con la lettura dei giornali i conservatori del Partito Popolare sono il primo partito ma il crollo dell'estrema destra di Vox impedisce a Feijo di formare il governo tengono i socialisti del premier Sanchez e la sinistra di Sumar decisivi gli indipendentisti dunque la situazione che si vive in Spagna per le elezioni rodi in fiamme fughe fuga dall'inferno un'emergenza clima poi zacchi ora giustizia per Regeni vediamo la seconda pagina della Repubblica si continua a parlare vedete delle elezioni in Spagna popolari primi crolla Vox la destra non governerà rischio nuove elezioni vediamo anche le pagine interne che riguardano ancora il voto in Spagna l'intervista allo scrittore spagnolo Manuel Villas i sovranisti puniti per il loro attacco alle libertà civili altri argomenti li troviamo su Repubblica vedete la disfatta di Bascal Gela la madrina Meloni l'ottimismo del Partito Democratico sempre per il voto in Spagna lo scambio di messaggi della Premier con il leader di Vox per il quale si era spesa in campagna elettorale Giorgia Meloni proseguiamo ancora con le altre notizie la competizione globale la scelta dell'Italia addio alla cosiddetta via della seta con l'aiuto degli Stati Uniti vedete il titolo che troviamo a pagina 10 di Repubblica firmato nel 2019 con la Cina è il memorandum di adesione alla Belt and Road Initiative che ha portato a pochi risultati concreti ma non è mai stato gradito oltre Atlantico giovedì alla Casa Bianca Meloni annuncerà la decisione a Biden andiamo avanti ancora con la Repubblica Zacchi ecco un altro fatto che ha tenuto molto in apprezzione la gioia e l'impegno è il mio giorno più bello ora giustizia per Regeni il ricercatore in Italia dopo la grazia sarò un difensore di diritti umani e ringrazia la Premier Meloni e dice non dimentico chi è rimasto in carcere in Egitto altri temi ecco il salario minimo tema sul quale la politica ha diventato un incessante dibattito negli ultimi giorni riparte la battaglia alla Camera 48 ore per trattare PD nessun rinvio al buio scendiamo una manovra senza veti questo è retroscena Meloni pensa a sostituire il ragioniere dello Stato e quindi al governo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti che vediamo qui a sinistra e poi al ministero il ragioniere capo dello Stato Biagio Mazzotta è una situazione sulla quale si continuerà a discutere soprattutto a livello politico poi la guerra in Ucraina sempre su Repubblica vediamo attacco russo a Odessa missili sulla cattedrale Lukashenko va da Putin Wagner vuole Varsavia questi alcuni dei temi che affronta la Repubblica io adesso vi proporrei una vicenda che ci giunge da Francavilla Fontana nessuna ora X per l'abbandonato centro di carico intermodale della città dell'imperiale il comune di Francavilla ha proceduto alla revoca dell'aggiudicazione disposta in favore del gruppo Stamplast ce ne parla Gianni Cannalire Punto e a capo il centro di carico intermodale di Francavilla Fontana rimarrà in totale stato di abbandono non ci sarà alcun affidamento in locazione dell'intermodale situato in contrata di Berio il gruppo Stamplast SPA non intende più sottoscrivere il contratto a seguito di una ponderata valutazione in ordine all'entità dell'investimento per il recupero della struttura ma anche per la durata massima prevista per la locazione ha fatto in altre parole retromarcia dopo che il comune agli inizi di luglio aveva dato il nulla osta per la stipula del contratto alla società locataria aspetta l'onere infatti di realizzare con spese a proprio carico le opere volte al recupero funzionale ma anche all'agibilità della struttura l'importo di tali lavori dovrà essere scomputato dal canone di locazione l'intermodale rimane dunque il simbolo dello sperpero di ingenti risorse di denaro pubblico l'inno al degrado un intermodale che non interessa più a nessuno il centro di carico o meglio il suo fantasma agita da sempre i sonni della politica dei politici ma anche degli ex politici costato 12 miliardi delle vecchie lire in 15 anni sono stati buttati al vento soldi per sorvegliare un rudere ovvero ciò che rimane della struttura ultimata il 14 maggio 1998 è mai attivata per lo stoccaggio dei prodotti ortofrutticoli il centro di carico concepito verso la fine degli anni 80 con i lavori iniziati negli anni 90 venne ultimato 25 anni fa con tanto di fabbricati e celle frigorifere e presentava già all'epoca come accertarono i collaudatori un notevole degrado funzionale quest'opera pubblica è considerata dai francavillesi non solo un monumento lo spreco tante le aspettative rivolte nei confronti di un'iniziativa potenzialmente importante per il rilancio del trasporto merci di lunga percorrenza nessuna ora X il comune ha proceduto alla revoca dell'aggiudicazione disposta in favore del gruppo Stamplast andiamo un'occhiata adesso ai titoli di sport dei giornali siamo al quotidiano si sai che ovviamente è un importante calciatore giallorosso del Lecce ostacolo ingaggio l'intesa slitta l'attaccante chiede 2 milioni di euro netti a stagione mentre per ora è arrivato ad offrire 1,5 attesi per oggi nuovi contatti telefonici con i sauditi e poi vediamo i campioni d'Italia sfideranno il Verona nella gara d'esordio parliamo della formazione primavera del Lecce dal ritiro della società della squadra bianco-rossa mezza giornata di relax per il Lecce Falcone obiettivo per la porta anche ieri non ha partecipato al test della Sampdoria vi ricordo che il giocatore con proprietà è tornato ai blu cerchiati vediamo adesso altre notizie sempre per lo sport pugliese Taranto tutto su Mikowski il calciatore dell'Avellino è in cima alla lista di Capuano ma i rosso-blu devono fare i conti con altre pretendenti è quanto scrive il quotidiano da ieri Vannucchi e i compagni sono in ritiro a Cascia nel pomeriggio c'è stato il primo allenamento stagionale via al nuovo corso per la Virtus Francavilla poi Brindisi in ritiro parte la campagna abbonamenti ci sarà anche una conferenza stampa oggi per presentarla Lecce woman ingaggiata anche la portoghese Donso parliamo di Serie D adesso sempre nella pagina sportiva del quotidiano Antico sarà un Ardon nuovo e Camaleontico il presidente spiega la filosofia di costruzione della Nuova Rosa abbiamo scelto giocatori adatti al gioco versatile di Ragno poi il Martina da Lecce arriva in prestito Zecca il reparto dunque offensivo quello che riguarda la formazione biancazzurra poi il Caserano non è sazio vicino il difensore Vona Edoardo Vona ex Taranto e Imolese poi vedete Bellis città di Gallipoli grande soddisfazione Fasano settimana calda con 4 nuovi innesti si parla ovviamente quasi solo esclusivamente di mercato e a proposito di calcio mercato vi ricordo il nostro appuntamento settimanale o meglio per 3 giorni alla settimana lunedì mercoledì e venerdì in diretta dalle 20 e 30 con Fabrizio Caglianiello che vi racconterà tutte le notizie in tempo reale di aggiornamenti in merito alle operazioni di mercato delle società di calcio di tutte le categorie sia pugliesi che lucane quindi stasera alle 20 e 30 calcio mercato su Antenna Sud con Fabrizio Caglianiello così come mercoledì e venerdì prossimi adesso la linea va a Sebastiano Buffano un po' di pubblicità poi lo sport e poi ritorneremo con le nostre notizie di Cronaca